Con Che ora è della notte di Franco Salerno nella splendida location di Villa Mendola il primo appuntamento della terza edizione della rassegna Avellino letteraria ideata e curata da Anna Maria Piccillo. Salerno, autore di vari saggi e testi teatrali, di analisi di testo, di antropologia, di problemi della comunicazione, di tecniche della scrittura giornalistica e della scrittura creativa e teatrale, insignito del premio della cultura per la saggistica e per la narrativa, abbandito dalla presidenza del Consiglio, con Che ora è della notte ha dato vita ad un thriller storico tra i misteri di Ischia e Procida, pubblicato da Guida Editori. Due pagine del manoscritto Voynich, custodito in passato nel castello aragonese di Ischia e considerato il documento più misterioso del mondo, spariscono. La trama si snoda attraverso geniali invenzioni letterarie, catapultando il lettore fin da subito nell'anno 1509, a Ischia, al momento della celebrazione delle nozze di Vittoria Colonna e Ferrante Davalos, per poi proseguire con sorprese, delitti e colpi di scena. E quando tutti sembrano vicini al ritrovamento delle pagine scomparsi alla scoperta delle verità ultime, un evento inatteso colpisce dritto il cuore del lettore. Grande successo anche di pubblico ha riscosso il primo dei 14 incontri e appuntamenti di Avellino Letteraria, che propone un ricco programma che si snoderà fino al prossimo 23 dicembre con un ventaglio di appuntamenti dedicati a teatro, poesia, musica, sociale e scienza.